Questo è un Creos 6010 montato su meccanica 180, doppia porta d'ingresso, cabina e abitacolo, un bel garage sotto i 7 metri. Questa macchina è veramente un'automobile, grande potenza, stabilità, meccanica montata su telaio alco, asse allargata. Questa è un oggetto comodissimo, due persone, quattro omologato. Questa parte posteriore con il vano doccia sulla sinistra e il lavello sulla destra è la possibilità di stare nella parte centrale con la porta come spogliatoio rapido, senza dover stare a chiudere gli oscuranti della cabina. Frigo di ferro alto, un bel letto, questa è una delle caratteristiche della Laica, abbassando con estrema semplicità i sedili, gli schienali dei posti, si butta giù e viene un bellissimo matrimoniale, molto molto ampio e abitabile. Come vedete i gesti sono semplici e pratici. È una macchina molto ben accessoriata e torno a dire grande potenza meccanica sotto 7 metri con tanti contenitori sia a livello di pensili che anche di sottoscocca proprio con vari spazi per contenere gli oggetti.